Dobbiamo rilassarci prima della prossima. Ma se sei appena stato in spiaggia a Cuba e ora sei in Messico. Venire mitragliato da una pattuglia non è il massimo del relax. Dimmi che hai un aggiornamento sulla nave dirottata dagli ingegneri. Il personale dell'aeroporto se ne è andato cinque minuti fa e senza avvisare. Pare che ci aspetti un altro scontro. Abbiamo provato a usare il drone di sorveglianza, ma qualcuno disturba il segnale. Dobbiamo decollare all'istante. Abbiamo soldati in arrivo sui fianchi. Ok, voi tre difendete qui e fornite fuoco di soppressione. Grim, non possiamo decollare se siamo sotto attacco. Preparo tutto per il decollo. Si direbbe una piccola squadra. Tenete gli occhi aperti per gli altri. Vedo movimento dietro l'hangar. No! 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 SEM, arrivano dei furgoni! Regala, riparo! SEM, altri nemici in arrivo su furgoni! Riscaldamento motori! Pari in arrivo sulla destra! Motori attivi! Uomo a terra! Hanno colpito Ollie! Kyle, stabilizzalo! Eccolo! Abbiamo finito! Confermo! Riportiamo tutti a bordo e andiamocene! Roger, Kyle, porta Ollie in infermeria! Grim, dobbiamo far tecollare il Paladin! Liberiamo la pista! SEM, ascolta, ho sbloccato il drone! Ventilo in slave! Sadik vorrà prendere l'aereo tutto intero! L'unico modo per tenersi a terra è colpire i motori! Ricevuto! In slave sul mio offset! Centro pieno! Nemici sulla sinistra dell'aereo! Veicolo nemico eliminato! Uccisione confermata! Brix, attenzione! Dei nemici sulla destra! Briggs, attenzione! Dei nemici sulla destra! Da buttare! Briggs, non sono finiti! Stanno arrivando altri veicoli! Presto! Fuori uso! Uccisione! Oh merda! Stanno arrivando altri furgoni! Dobbiamo decollare all'istante! Ricevuto! Cosa? Le petroliere nel golfo! La guardia costiera ha sostituito un equipaggio per intossicazione alimentare! Charlie? Questa non vorrete perderla! Mi sono fatta aiutare dai ragazzi di Fort Smith! Ho tracciato gli IP ai quali erano taggati quelli di Philadelphia! State vedendo? Il cervello del server delle operazioni USA degli ingegneri! OID, indirizzi, sono dettagli! Che vuoi dire? È soltanto rumore! Abbiamo già esaminato migliaia di corrispondenze simili! È lo stile degli ingegneri e non ci dice gli obiettivi di Sadiq con la blacklist! Non voleva il ritiro delle truppe statunitensi? Non succederà mai e Sadiq lo sa! Briggs ha ragione! Stiamo sbagliando direzione! Se Sadiq non lavora per l'Iran... E non gli importa del ritiro delle truppe? Allora qual è il suo obiettivo? Charlie! Taglia la connessione! Tutti i dati sono sospetti! Lavora con Briggs! Concentrati sulla petroliera! L'equipaggio sostitutivo è la pista giusta! D'accordo! Grimm, dai tutti i dati in pasto all'IMS! Proviamo a capire cosa vuole Sadiq! Fermare questo attacco non ci avvicinerà al vero obiettivo di Sadiq! Ma catturare uno dei suoi uomini di fiducia, sì! Molto astuto! Sono dentro! Hanno abboccato! Quel ragazzo può tagliare quello che vuole! Ma da 5 minuti il Paladin è mio! Bene! Tra quanto l'arrivo della nave? Incontro con Echo tra due ore, impatto con il bersaglio tra quattro! Stato con timità di governo? Allerta gialla per il bunker F! Washington ha già mandato i dati d'emergenza all'NSA, al comando e allo Stato! Bene! Ci serve ancora una spintarella! Via con benzina! Fatelo! Voglio l'intera costa in fiamme per quando atterro! Ma iniziate con l'aereo di Fisher! Visto che è curioso di sapere cosa vogliamo! È il momento! Visto! Visto!